Musica Enel Distribuzione e Blu Reti Gas sono le due società coinvolte nell'accordo di programma per la sistemazione di una serie di sottoservizi a rete fra i comuni di Lozio e Dossimo. Hanno subito accettato di far parte del progetto coordinato dalla comunità montana di Valle Camonica che permetterà di razionalizzare alcuni lavori in corso fra i comuni dell'Alto Piano del Sole, Ossimo e Lozio e di realizzare contemporaneamente la rete del gas metano e l'interramento di un tratto di linea elettrica. Che andrà a beneficio della qualità del servizio per circa un migliaio di clienti. E' molto importante, lo facciamo assieme ad altri partner che porteranno a loro volta altri servizi di rete, gas e acqua. Tutto questo a beneficio della cittadinanza ed è un valore in più che noi diamo al territorio. Molto importante per noi la condivisione, questo sforzo perché crea sinergie, crea efficienza, crea efficacia. C'è uno sforzo di coordinamento importante ma con la firma di questo protocollo d'intesa abbiamo definito lo strumento attraverso il quale poi anche in futuro andremo a lavorare. Esattamente così, il comune di Lozio aveva un deposito di GPL, una rete di GPL che presentava delle criticità. E con questo intervento riusciamo a portare la metanizzazione, riconvertire l'impianto di Lozio e portando un servizio, come dicevamo prima, che non è presente. Ci sono altri comuni in valle che aspettano la metanizzazione e la società Blu Reti, che è la società inserita nel gruppo Valle Camonic Servizi, è debuttata a questa e sta iniziando le progettazioni per dar corso a questi interventi. L'auspicio è negli amministratori che il modello di questo accordo possa essere praticato ed applicato anche in altre zone della valle.